Visto che non è sull'ordine dei lavori, è sullo stesso argomento? Il suo intervento è sullo stesso argomento? Volevo dirle, nel merito delle comunicazioni che poc'anzi sono arrivate, senza obiettare nulla relativamente al fatto che si possa incardinare il testo di legge da lei poc'anzi riferito, però volevo chiederle, a nome del mio gruppo chiaramente, la possibilità di poter da parte sua convocare una conferenza dei capigruppi quando lei lo riterrà opportuno, oggi, domani, diciamo così, però nell'immediatezza, perché alla luce di quanto è riferito dalla sua viva voce già nelle precedenti occasioni di incontro, nella scorsa capigruppo, il Presidente Musumeci vuole venire qua a riferire, insomma anche perché siamo stati in quest'Aula, comunque in tanti, a chiamare il Presidente per sapere come intende continuare ad andare avanti sull'emergenza idrica. e avere la possibilità di condividere un percorso, quindi un momento, quale noi siamo stati abituati anche nella scorsa legislatura, a poter avere durante la conferenza dei capigruppo a far valere anche in termini regolamentari quello che è, diciamo così, il peso anche di chi fa opposizione qua dentro, ma che può essere in questo senso anche un'opposizione costruttiva, chiaramente nei temi, giusto? Se parliamo di servizio idrico, pertanto, avere la possibilità anche di calendarizzare, incardinare delle emozioni sul tema, perché tutti noi vogliamo affrontare il tema e dare il nostro contributo politicamente parlando. Pertanto se il Presidente Musumeci ha detto che sarebbe disponibile il 21, per esempio il 20, che in martedì si potrebbero, così come abbiamo fatto per il percorso sui rifiuti, si potrebbe incardinare qui la materia del servizio idrico, facendo quasi copia conforme. Pertanto le chiedo sostanzialmente di poter avere un momento di incontro e spero anche di poter avere l'accoglimento da parte degli altri capigruppo. Grazie.